Buonasera, assimate signore e signori, e benvenute di cuore a Klagemawa TV dallo studio di Dresda. La situazione in Ucraina continua a rimanere tema numero uno dei media. Anche noi di Klagemawa TV nelle ultime settimane abbiamo seguito ripetutamente e messo in discussione gli accadimenti sulla crisi ucraina. Ulteriori informazioni in lingua tedesca le trovate cliccando sul simbolo della lente di grandimento sul nome Ucraina. Inoltre, per l'italiano, vi consigliamo la visione del video «Azioni terroristiche di manifestanti pacifici». In questa trasmissione però ci interessa sapere come il popolo tedesco giudica l'attesa situazione tra Ucraina, l'Occidente e la Russia. Il 6 marzo del 2014 il giornale Tagesspiegel lanciò un sondaggio online ponendo ai lettori la seguente domanda. Come deve reagire l'Occidente alla Russia? Fino al 13 marzo del 2014 avevano contribuito al sondaggio già 13.616 lettori. Ecco i risultati. Si dovrebbe considerare di tornare dalla costellazione dell'incontro G8 a quella G7 senza Russia solo il 4%. Il conflitto si può risolvere solo in modo diplomatico. Per questo gli incontri del G8 sono un importante forum, 14%. La critica dell'Ovest è ipocrita. La Russia difende degli interessi legittimi, l'80%. Non si dovrebbe escludere un intervento militare della NATO in caso di ulteriore scalazione, 4%. Cari telespettatori, questo risultato ci mostra che la maggioranza si esprime chiaramente a favore della Russia. Questo fa notare e giustamente supporre che la maggior parte dei tedeschi non possono essere più ingannati tramite i mass media di maggiore corrente. Per cui, formate anche voi la vostra opinione e ponete in discussione gli avvenimenti attuali in Ucraina. Informatevi sulle piattaforme con notizie non sottopasta censura come Klagemauer e diffondete queste informazioni tra il popolo. Una piacevole serata e arrivederci a domani. Grazie.